è un altro mondo o meglio un diverso modo di vedere il mondo quello che con bold 2024 viene mostrato nei locali di art 3 a salerno secondo appuntamento con la rassegna di artisti senegalesi che affrontano sfide locali contemporanee e che con le loro opere aprono riflessioni sull'interconnessione globale delle nostre azioni. Questa rassegna nasce dopo un mio viaggio in Senegal l'anno scorso per l'ONG e il VA sull'economia circolare è un progetto che mi ha permesso di conoscere diverse realtà che si occupano appunto di utilizzare materiali che sarebbero di scarto per farci per dargli una nuova vita chi per arredo chi per oggetti di decoro chi per farci delle vere e proprie opere d'arte e così nasce questa idea di fare questo scambio con l'associazione culturale al 3 per diciamo dare risalto a questi artisti per dargli uno spazio perché abbiamo visto che c'erano delle tematiche veramente urgenti di cui parlare che hanno a che fare con l'inquinamento climatico che è estremamente collegato all'immigrazione e necessariamente all'Europa. Zeus con Ordure è il secondo appuntamento di questa rassegna. Amadou Bouye è nato nel 1975 nella città di San Luis, la capitale coloniale a nord-est del Senegal. La sua galleria è nel cuore della città in una corte decadente di un'antica casa coloniale. Qui espone i frutti delle sue ricerche quotidiane e della raccolta dei rifiuti abbandonati nella città. Questi diventano opere d'arte per denunciare l'urgenza di proteggere le risorse naturali e vivere in armonia con la natura. Tratta due tematiche importanti, lo sfruttamento dei bambini per strada e l'immigrazione clandestina in Europa. Lo fa con queste tele, con delle frasi, con delle dediche o riprendendo le immagini di queste tematiche. Tutto questo lo fa con materiali di riciclo, perché utilizza il legno che raccoglie per sé lui o vecchi pezzi di scampi delle varie botteghe di tessuti in Senegal.